Esistono integratori per migliorare la memoria e la concentrazione? Sono Filippo Ongaro. Memoria e concentrazione sono tra le espressioni più fondamentali della funzionalità del nostro cervello. Se ci pensi un attimo, la memoria in particolare è qualcosa a cui facciamo continuamente riferimento per decidere le prossime mosse, i prossimi comportamenti, come scegliere, perfino la memoria è molto fortemente legata ad alcuni comportamenti importanti, come il comportamento e le decisioni alimentari. Allo stesso modo la concentrazione è la capacità di focalizzare la potenza del cervello su un compito specifico per riuscire a portarlo a termine. Forse proprio per questo motivo a tutti noi fa piuttosto paura l'idea di perdere la memoria, di perdere la capacità cognitiva e di avere una mente che funziona via via in maniera meno efficace. Siamo tutti spaventati dalla prevalenza così forte di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e della demenza senile, ma certe volte ci sfuggono anche le primissime avvisaglie di un cervello che funziona in maniera leggermente meno efficiente che facciamo fatica, per esempio, con il quale facciamo fatica, per esempio, a portare a termine dei compiti, ci rendiamo conto che memorizziamo sempre meno, che la concentrazione è diventata difficile da gestire. Ecco, in quel momento qualche integratore potrebbe avere un effetto positivo. Voglio sottolineare subito che nessuno di questi integratori ha un effetto miracoloso e tantomeno nessuno di questi integratori rappresenta una cura per quelle patologie come l'Alzheimer o la demenza senile. Assolutamente no, però esistono degli studi in letteratura che dimostrano che un qualche aiuto nell'ottimizzare le capacità cognitive e la memoria effettivamente ce l'hanno e proprio per una ragione anche di di riassumere, in pochi punti le cose più fondamentali, ho selezionato tre integratori sui quali esiste, non voglio dire, una grande ricerca che dimostra l'efficacia nelle problematiche di questo tipo, ma una discreta evidenza esiste. Il primo di questi sono gli Omega 3. E sugli Omega 3, diciamo, esiste ricerca in vari ambiti. Chiaramente la più tradizionale è quella relativa alla gestione dell'infiammazione, in particolare in relazione alle patologie cardiocircolatorie, anche qui non significa necessariamente che ci sia un effetto curativo sulle patologie, ma c'è sicuramente un effetto di stabilizzazione della placca aterosclerotica di riduzione dell'infiammazione. Ma siccome uno dei due acidi grassi Omega 3 importanti, uno è EPA, acido icosa pentanoico, l'altro è DHA, acido docosa esanoico, quest'ultimo, il DHA, è particolarmente presente nel cervello, si è osservato che una sua somministrazione regolare può effettivamente ottimizzare la funzionalità cerebrale e aiutare la memoria. In genere si parte dal presupposto che un grammo di olio di pesce è sufficiente a generare questo tipo di effetto. Secondo integratore è la fosfotidilserina. La fosfotidilserina è un fosfolipide, è un'altra sostanza particolarmente presente nel cervello dove aiuta nei processi di memorizzazione e nella trasmissione dell'informazione a livello neuronale, ma ha anche un effetto importante, diciamo indiretto, che è quello di contrastare l'azione del cortisolo, l'ormone dello stress, che è particolarmente dannosa a livello dell'ippocampo, che è una delle aree del cervello che è preposta alla memorizzazione. Quindi la fosfotidilserina può avere un effetto protettivo. Anche qui gli studi ci orientano verso un dosaggio di 200-400 mg al giorno. Quindi qui parliamo di un grammo, qui parliamo di 200-400 mg al giorno. Terzo integratore, più che integratore, si tratta di un fitoterapico e si chiama Bacoba Monieri, ed è una pianta tipica della medicina ayurvedica, quindi una pianta utilizzata in medicina tradizionale, indiana, e con un effetto anche questo piuttosto selettivo sui processi cognitivi e sulla memoria. Anche qua stiamo parlando di 300-400 mg al giorno con la regola, ma questo devo dire vale sostanzialmente per tutti e tre le sostanze, che gli effetti richiedono tempo per essere generati, quindi non stiamo parlando di una somministrazione saltuaria o limitata nel tempo, ma piuttosto di una terapia continuativa. Logicamente sono sostanze, se le cito qui sicure, con un ottimo profilo di sicurezza, ma sempre meglio parlarne con il medico, assolutamente indispensabile parlarne con il medico se si stanno assumendo altri farmaci, sia farmaci per il sistema nervoso centrale che per altri distretti. Non da ultimo ricordiamoci sempre che la mente è in grado, il cervello è in grado di reagire agli stimoli in maniera continuativa, quindi il cervello è un organo altamente allenabile, si parla di neuroplasticità sempre di più per far capire che il cervello si adatta agli stimoli, ovviamente si adatta agli stimoli che gli arrivano. Dunque se gli diamo degli stimoli positivi che siano, come dire, orientati a far migliorare la prestazione del cervello, per esempio imparare cose nuove, studiare, imparare a suonare uno strumento, imparare una lingua eccetera eccetera, il cervello continua a sviluppare connessioni e migliora. Se, ahimè, gli stimoli che scegliamo sono sbagliati, il cervello peggiora. Uno stimolo importante, al di là, diciamo degli integratori, è anche quello alimentare. Sappiamo che c'è una connessione piuttosto stretta tra problematiche legate alla gestione della glicemia e l'Alzheimer, beh diciamo che l'abuso di zuccheri, un'alimentazione troppo ricca di sale che incide sull'ipertensione, il fumo, la sedentarietà, sono tutti fattori che aumentano di molto il rischio di declino cognitivo e vanno evitati. Chiaramente quella è la prima cosa da fare, eventualmente l'integratore arriverà dopo. Grazie. Grazie a tutti.